allora questa missione dedicata a seglia dato che ci sono gli alpaca o come si chiama non mi ricordo più come si chiama non so siamo in bolivia eccoci qua ecco attività nemica occhia parte qui c'è un arco la testa date un'occhiata eccoci qua come qua è un'altra vedi silvia quanto ce ne sono il resto sono in bolivia ok eccoci qua ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli vi trasmettiamo dati sulle posizioni nemiche bene 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 ora proviamo questa missione abbastanza semplice in cui mi trovo su una posizione sopraelevata questo sono io che domina un po la situazione dobbiamo rubare questa aerea ai narcotrafficanti bene 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 proviamo a spegnere un po le luci utilizziamo il drone incursione abbiamo abbiamo fatto un po' troppo casino forse aspettiamo che l'allarme rientri dai ragazzi è stato solo un cortocircuito non c'è nessuno che vi sta minacciando aspettiamo che passi d'allarme aereo unità di in avvicinamento giù un, due, tre, listo o no? aspettiamo! 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 visto sono! ecco, è passato d'allarme spegniamo le altre luci indietro potrebbe scoprirti aspettiamo! 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 e tra poco li lasceremo tutti al buio ora sono tutte al buio ma noi all'abbiamo la visione termica attacco sincronizzato abbiamo solo 3 col 4 colpi compreso io l'attacco sincronizzato con gli altri dovremmo sfangarci la in battaglia di solito ci scegliamo i soldati più forti del lineare qui ok bravo poco poco ci hanno visto ci siete poco roger nemico a terra ci siete aprite il fuoco roger ah già giusto roger raggiungo la posizione fammi mettere in posizione roger bersaglio marcato ok bersaglio marcato raggiungo la posizione migliore ho perso il bersaglio il bersaglio pronto quando vuoi l'ho ucciso lasciamogli un sito alle gare raggiungo la posizione migliore abbiamo finito tutto ok carica innescata e in posizione si direbbe la posizione di una delle antenne del cartello disattiviamola marchiamo i rifornimenti così i ribelli li verranno a prendere e ora rubiamolo ioppi oh boom e si vola si vola basso perchè a quest'area ci sono molte contro aeree quindi voliamo basso non voglio essere colpito da un missile ho avuto la fatica che ho fatto non voglio essere colpito ma voglio essere colpito ma ok stiamo bene stiamo bassi qui che sto bene eccolo che sta da terraggio eccola che approccio abbiamo finito qui i ribelli possono mandare una squadra a recuperare ottimo lavoro ragazzi per i prossimi tutorial alla prossima